Ciao a tutti ragazzi qui è FortiGamer che parla e benvenuti in un nuovo video Allora ragazzi torniamo a fare le nostre carissime challenge oggi Nel particolare la challenge che dovremmo fare è quella di utilizzare esclusivamente armi di NPCs Cioè dei personaggi della mappa In pratica ragazzi noi non potremo prendere armi da terra, dai nemici, dai chest Ma solo dai personaggi della mappa che ce le concederanno gentilmente, più o meno Prima di startare ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale in caso in cui non l'abbiate ancora fatto E soprattutto di attivare la campanellina Di inserire all'interno dell'item shop il codicreatore Fortu così come vedete a schermo E accettare Così da ora un acquisto che farete mi farà ricevere una piccola percentuale E rimettetelo perché ogni 14 giorni ve lo levano Ultimissima cosa questa sfida è stata registrata mentre ero live sul mio canale Twitch Dove facciamo spesso appunto challenge registrata assieme Quindi mi raccomando in descrizione trovate il link per seguire anche voi le live in diretta Certamente qua l'MPC c'è ma io ci devo andare a parlare subito perché non posso raccogliere armi di alcun tipo Però va bene allora ragazzi questa cosa finirà molto male Sto scendendo malissimo ragazzi e sento un bel po' di gente sopra la mia testa Questi scenderanno tutti palesemente da Beastie boy Ma non avevo armi Allora vi prego non andate da Rick Vi prego non andate da Rick Vi prego non andate da Rick Beastie boy vieni un attimo qua Te dobbiamo dire una cosa Nell'orecchio Fair Cioè comunque veramente sta cosa raga finisce che Nooo Nooo dai Vabbè GG Allora devo capire bene dove si trovi Rick Che se non sbaglio si trova qui esatto Vedo i tre puntini ragazzi Ce li dovremmo essere Scusami Rick Potresti darmi un'arma decente? Bende Cioè Rick bende Tra tutto quello che potevi darmi bende E a questo punto io direi che possiamo anche tranquillamente quittare Vabbè e sendimi Rick attivami una rift Almeno Boh vado da qualche altro NPC Tipo a baby woods Questa non la posso raccogliere Oddio però non è considerabile arma La citiamo? Che dite la citiamo? Secondo me si può citare Dai citiamola Non è un'arma in fondo Non fa danni Quindi la possiamo citare Mi servono i tre puntini Dove scavolo sta l'NPC a baby woods? No 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 Lasciatemi stare Lasciatemi stare Lasciatemi stare L'ho visto L'ho visto L'ho visto L'ho visto L'ho visto Sta qua E allora beast boy dammi qualcosa Ti prego Bende Io non ci posso credere Due di loro mi hanno dato le bende ragazzi Almeno tu vendi un'arma Oh neanche tu vendi un'arma Mamma mia ragazzi Non ci posso credere È diventata una prova a vincere col piccone challenge ragazzi Ma a tutti gli effetti Sì dai vinciamo col piccone Sto tenendo un botto di cure Ma giusto perché sto a farmà O sto a farmato No 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 Scappa 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 Allora L'NPC dovrebbe stare tipo A Mannaggia la miseria Tutte quelle miserie esistenti sulla miseria della terra Giovanni Come ti chiami Marco Lella 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 Raffaella Ti prego Ragazzi Quante bende ci hanno dato Ma mi pare mai possibile una cosa del genere Ce l'ho dovuto acquistare questa arma un altro po' Questa io che faccio ragazzi Io con sta cosa Cosa devo fare C'è raccoli per coche C'è In annaffiatoio Ragazzi Io non posso fare nulla Cioè devo sta Al massimo se vuoi te canto una cazzone Ma è che abbia tutte queste alternative e sto dizio mi sta sopra Lasciamoli fai dare raga Lasciamoli fai dare Ma fallo cadere Fallo cadere Bravo 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 Un altro colpo Un altro colpo Io te lo posso soldare ma fino a un certo punto Ok Ok Eh ragazzi posso 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 provare Fini i materiali No GG bravo Non potevo fare altrimenti raga Qua nel molo alla gelateria ci dovrebbe essere l'MPC Lo vedo Spero che nessuno venga con me sinceramente Non vedo nessuno per il momento Sunny Bella 50 Grazie Va benissimo Almeno così partiamo sempre con un'arma ragazzi Facciamo così Da ora le cose qui cambiano Possiamo raccogliere tutti gli oggetti Anche armi Che non facciano danni Poi del resto possiamo raccogliere tutto quello che ci pare da terra L'importante è che non siano armi che fanno danno Eh ci dovrebbero stare tipo due persone qua That's kinda sexy no? Eh vabbè Me ne farò una ragione Poi Non atterra Questo non c'è a me manco materiali Girava con una pistola e senza materiali sto tipo Eh ma sta arrivando la safe Caro mio No No Malo Come cavolo ha fatto? Non salire Non salire Perché non sta salendo? Perché non sta salendo? Perché non sta salendo? Mi ha massacrato Perché non sta salendo? Mi hai arato Mi hai aperto Vabbè io scappo Ciao Ah ma tutta sta zona c'ha sta cosa strana del salto Vabbè ci sta Condivisibile Con i bei vecchi tempi eh No Sta l'ufo No 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 Che significa l'ufo No 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 Cioè ma sei serio? Cioè raga questo dizio non sta scherzando Questo ha fatto una cosa molto intelligente Ok è andato Mica Eh una cesta Una cesta Una cesta Dai 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 Pozza grande No Ci ho sperato tantissimo Uh si gode Si gode queste skill Se te la chiami skill Se te la chiami skill Oh 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 Bad story Bad story Ufo ufo No 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 Mi sei No L'hanno atterrato nella posizione peggiore in cui potessero atterrarlo Ok sono due li vedo li vedo li vedo li vedo Atterrato Non so che roba c'aveva Niente Niente Non c'aveva niente questo Io non ci posso credere No 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 Fatelo cadere dai Fatelo cadere Fatelo cadere Fatelo cadere dai Dai che quei due si fightano Dai che quei due si fightano Se solo quello si avvicina rega Mi ha sgamato Io non ci posso credere No Non scherzare Quanti colpi ci ha Non è finita Non è finita Non è finita C'ho l'iground Utilizzo i suoi materiali per ora che mi conviene Lui finchè non capisce che sono sopra di lui Dai che casino Bella una a terra Manca l'altro Dov'è Sta qua Sta qua Andata godo GG ragazzi Andata Vinto solo con le armi degli NPC Grande Andata ragazzi Beh ragazzi La fine ce l'abbiamo fatta Io vi ricordo solo di iscrivervi al canale di Youtube Nel caso in cui non l'abbiett' ancora fatto Di attivare la campanellina E anche sul mio canale Twitch La do che stasera Alle 19 ci sarà un'altra live In cui giocheremo assieme E beh poi anche su Instagram e TikTok insomma Niente boys Quindi noi ci picchiamo alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti